Ale, mi stai facendo il mio spettacolo? Io sono registrato. Bene, un paio. Carolina, non lasciate niente. Anche la sto a mangiare. Se puoi comprarlo, fermare a casa. No, ma adesso non parla, niente di niente. E' una fatta buona? I cartuchi sono buonissimi. Salsa, salserè. Però è semplice, non è buona. Non è buona. Non è buona. Come spessi? Non è buona. Non è buona. Ma non è buona. pensa a finire quello che hai senti che musica rilassante un po' di un po' di un po' di un po' due panini come è? buona 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 tre pezzettini no, quella vi ha fatto la lasciata no no, non so cosa è questa donna non è proprio lasciato avere questo oh Ma chi è? Quello Ma con chi l'hai preso, scusa Carolio? No, no, con chi l'hai preso? Che l'hai preso la pietina? Comodoro? E' molto bella E' buonissimo Quanto carino con le fiori Un po' di fiori Che stanno lì sopra E' finto Un po' di fredda E' un po' di fredda Ma non c'è Un po' di freddola e massaggio di stress un percorso una certa no ciao ho messo lo smalto si è capito non ce la farei mai non ce la farei mai